Bene, è ora per sferrare il colpo di grazia alla ribellione dei manto della protesta. Avete tutti combattuto coraggiosamente, sacrificando molto per giungere a questo punto. Ulfric crede che potessi rispettare il problema del suo castello, ma noi ci apriremo un barco e lo trascineremo fuori dalle macerie per sottoporlo alla giustizia. Dal momento che la loro situazione è disperata, i manto della tempesta combatteranno come topi in trappola. Saranno feroci e scaltri! Ma non sono all'altezza dei legionari! Siete i guerrieri migliori e più scaltri di Tamriel! Soldati professionisti, micidiali e senza paura! L'imperatore presterà molta attenzione agli avvenimenti odierni! Gli uomini che si distingueranno verranno ricompensati! Tutti! Tutti con me! Per l'impero e per la legione! Per l'impero e per la legione! Per l'impero e per la legione! Per l'impero! Per l'impero e per l'impero! Buon appetito! 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 Fatti da parte, Galmar. Siamo qui per accettare la resa di Ulfric. Non lascerò mai Skyrim nelle mani di un impero corrotto e moreno. Skyrim non ti appartiene, Ulfric. No, ma io appartengo a lei. Ora basta. Siete dei traditori e come tali morirete. Arrendetevi per essere giustiziati pubblicamente o avanzate e riceverete per mano mia un'esecuzione sommaria. Cambia poco per me. In un modo o nell'altro spedirò le vostre teste a Sirodin. Quindi, cosa stiamo aspettando? Da dove arrivi? Dovremmo essere divertenti. Sì, no! Scinocchio! Ti voglio arreggere, sì o no? Ucciderò! E ti definisci un guerriero? Qualcosa per te? Non puoi venire a prendertela. Accidenti a te! Muori! Non ho problemi ad ucciderti! Vuoi morire? Muori, maledizione! Muori! Ma il tuo sangue è una splendida tonalità di rosso! Sei ridicolo! Questa volta non puoi scapparmi L'ultimo desiderio, prima che ti spedisca dove va la tua gente e quando muore So Sì Capisco Quindi? Lasciate che sia il sangue di Drago a farlo Ne uscirà un canto migliore Cantata o no, voglio farla finita Prendi, usa la mia spada per farlo Mi assicuro sempre che sia affilata per l'occasione Che Talos sia con te Cosa hai detto, legato? Niente Stavo solo salutando Mi sa che gli uomini si aspettano un discorso E dovremo consegnare la città a quel tizio Libero inverno Bruno Sì, ho inviato degli uomini per proteggerlo e portarlo qui Windham ha bisogno di un governo in tempi brevi Per evitare nuove violenze La legione rimarrà qui per qualche tempo Dubito che ci saranno nuovi tumulti Ah, legato È stato un onore averti al mio fianco Come pegno della mia stima ha accetta la mia spada E ora mi tocca quel discorso Andiamo Attenzione Generale Tullius ha un annuncio da fare La ribellione è finita Ulfric, manto della tempesta È morto La sua testa verrà inviata a Sirodil Dove adornerà una picca sulle mura della città interiale E questo giorno sia un ultimo monito A chiunque osi ancora definirsi un manto della tempesta Stiamo consegnando la città A Bruno Wolf, libero inverno Un uomo onorevole e fidato Molti di voi rimarranno a Windalm Per aiutare lo Yard a ripristinare l'ordine E per sedare qualsiasi accenno di ribellione In riconoscimento del vostro servizio esemplare Raddoppio la vostra paga E il risarcimento alle vedove dei vostri compagni caduti Sono fiero di tutti voi Sia gloria l'imperatore Sia gloria i suoi legionari Odio tenere discorsi Non è andata così male Speriamo solo di non avere creato un martir Incontreremo resistenza Sono molti accampamenti dei manto della tempesta Nascosti fra le corde Sicuramente ci colpiranno ogni volta che ne avranno la possibilità Senza Ulfric a spronarli però Prima o poi faranno ritorno Spero che tu abbia ragione Peccato Nel frattempo continueremo a stanarli e a incrociare le armi Non ce l'avremmo mai fatta senza di te Le tue imprese rendono gloria all'impero Vieni Rick C'è ancora molto da fare L'impero è l'ultima speranza degli uomini Se Ulfric non fosse accecato dalla sete di potere Capirebbe che siamo dalla stessa parte Grazie Grazie